Sarebbe interessante porre l'accento sul concetto di prevenzione. La prevenzione può essere primaria, secondaria o terzaria, a seconda del momento in cui essa interviene. La prevenzione primaria è quella che si rivolge alle persone sane e che quindi serve a mantenerle in salute. Si tratta quindi di agire a livello ambientale, a livello delle possibilità di espletare la vita quotidiana in una maniera più sana, con la dieta, col movimento. Le attenzioni nei confronti di quelle che possono essere le situazioni anche lavorative che possono inficiare gravemente questo tipo di situazioni. La prevenzione secondaria invece è quella che si rivolge a patologie che sono già presenti, ma non riconosciute e quindi si fonda sullo screening in particolare e quindi sull'attenzione nel riconoscere la patologia nel momento più precoce possibile. Questo al fine di poter mettere in campo tutte le armi a disposizione per un trattamento definitivo. La prevenzione terziaria è poi quella che si rivolge ai pazienti che sono già stati ammalati e serve per rallentare l'evoluzione e le complicanze ed evolversi dalla patologia stessa. A livello dell'urologia, direi che è fondamentale tutte e tre l'azione, a livello della prima, della seconda e della terza fase di prevenzione. Però in modo particolare, a livello ambulatoriale, direi che l'urologo ha carico di una prevenzione secondaria estremamente importante. Ricordo lo screening del tumore della prostata, ricordo le attenzioni nei confronti del giovane, nei confronti del varicocele, dei tumori del testicolo. E' altrettanto importante la prevenzione secondaria nei confronti della calcolosi urinaria, del tumore delle vie escretrici e quindi dal punto di vista dei controlli seriati soprattutto nei soggetti a rischio. Quindi il concetto di prevenzione secondaria deve far parte di un bagaglio culturale dell'urologo e riveste interesse in tutte le fasce di età. Dicevamo nel bambino, riconoscere una malformazione, per esempio postnatale o congenita, che possa in seguito evolversi in patologia grave e quindi riconoscerla e poterla diagnosticare e trattare al momento opportuno che è sempre il più precoce possibile. Dal punto di vista della visita di leva che un tempo si faceva, era un momento di attenzione nei confronti del soggetto di sesso maschile in età post-adolescenziale per il riconoscimento del varicocele con i suoi danni nei confronti dell'infertilità, del tumore del testicolo che è frequente in questa fascia di età. Oggi purtroppo la visita di leva non è più così diffusa ed è in genere il medico sportivo o il pediatra che riconosce questo tipo di patologia. Certamente l'urologo deve essere coinvolto nella prevenzione secondaria anche di queste patologie, così come nel caso della calcolosi. La presenza di renella, di sabbietta nelle urine in realtà può essere facilmente trattata dal medico di medicina generale, però quando c'è stata una familiarità o una precedente calcolosi, le attenzioni dietetiche e farmacologiche atte a prevenire una recidiva o a trattarla il più precocemente possibile sono sicuramente dei compiti che all'urologo competono. E poi per tutta la fascia dei tumori dell'adulto, soprattutto dicevamo il tumore della prostata in cui il PSA dalla fine degli anni 80 ha cambiato completamente quello che è la possibilità di una diagnosi precoce. Poi oggi la biopsia che viene sempre più mirata, sempre più studiata nei particolari specifici anatomici e funzionali della prostata, consentono oggi delle diagnosi estremamente precoci, addirittura anche diagnosi di patologia neoplastica che non avrebbe avuto un seguito evolutivo grave e importante, però l'importante è poterle riconoscere per poter scegliere quali delle patologie possono essere così gravi da dover essere trattate in un modo radicale da quelle che invece possono essere soltanto controllate perché hanno delle caratteristiche di evolutività estremamente lente. E per concludere, il tumore della vescica in particolare, i fatti ambientali, il vivere in città, l'inquinamento, si sa che portano a un alto tasso di questo tipo di patologia neoplastica e soprattutto per quei lavoratori che sono periodicamente controllati, che lavorano a contatto di sostanze pericolose come l'anilina e quindi i coloranti e quindi i parrucchieri e quindi i carrozzieri e coloro che lavorano con l'asfalto, sono tutte fasce di soggetti che devono essere indagati periodicamente con degli screening che possano servire a mettere in evidenza quando la patologia è agli esordi e poter quindi avere un trattamento definitivo proficuo.